Buongiorno a tutti, ben ritrovati! Buongiorno Barbara! Buongiorno Fabio! Allora lo sapete, ma chi segue Milano News da tempo sa che se c'è Barbara Risi con noi, si parla! È tempo di teatro! Infatti lo vedete anche alle nostre spalle, siamo al Milano Off, al Fringe Festival Milano Off, qui alla Fabrica del Vapore, saremo qui tutta settimana a seguire tutto lo svolgimento del festival e oggi iniziano le nostre interviste con gli artisti che ci saranno in questo bellissimo festival. e iniziamo già col botto. Assolutamente sì, abbiamo infatti con noi tutto al femminile, cosa che io confesso, preferisco, però insomma qua lo dico e qua lo nego. La notte di colore sono l'unico maschietto in tutto lo studio, perché in regia abbiamo quattro ragazze, in studio tre ragazze e io sono l'unico maschietto che ci sono e sono felicissima di questo ovviamente. Vinceremo! Comunque, va benissimo! Allora, detto questo, invece con noi sono per lo spettacolo FAM che si terrà al Teatro della Cooperativa nell'ambito appunto del Milano Off, Fringe Festival 2019. abbiamo, allora, Lucia Vasini, poi ne parleremo e in realtà avremo anche l'autrice del resto che è Silvia Bragonzi che però, insomma, è un po' ostile alla, diciamo, alla camera. Anch'io, perché c'è una camera? No! La camera è doppia legata! Oddio! Mi tolgo gli occhiali allora! Bene, bene. Non sono neanche truccata! Bellissima lo stesso! E poi invece con noi abbiamo, per lo spettacolo, noi due, che si terrà ma ne parleremo nei particolari a Teatro Libero di Via Savona, noi due abbiamo l'autore anche, una delle due attrici, Catti Capra. Allora, buongiorno a tutte e due. Buongiorno! Iniziamo un attimo con il racconto un po' delle storie che portate in questo caso nell'ambito del Milano Off. Allora, partiamo da FAM, ci racconta un po', praticamente è una storia tutta quanta al femminile anche e parla sostanzialmente di donne molto famose ma in chiave un po' particolare, diciamo da un punto di vista molto molto particolare, da dentro, ecco, non in quanto personaggio storico ma in quanto donna, è giusto? No, no, è giusto, hai studiato bene, bravissima! Un po' come sviluppa? Diciamo che i personaggi che sono scritti, penso, c'è Artemisia Gentileschi, Camille Claudel, la mamma di Hitler. Questo infatti mi ha studiato molto, molto interessante. Questo è molto interessante. Perché si parla sempre, no, delle donne di Hitler, ma la mamma di Hitler, insomma. La mamma di Hitler. Chissà quante ne sono sentite dire. È un pezzo straordinario che Silvia Bragonsi ha scritto. Io ho già avuto l'occasione di recitarlo e devo dire che è pieno di sorprese, perché a un certo punto appare Maria. Molto interessante vedere in che direzione, però in che direzione è portata la narrazione della madre di Hitler. È, diciamo, la cosa un po' più totalmente fuori, perché comunque le altre sono più riconoscibili e anche molto più vicine istintivamente al mondo femminile. Tra Figa Calo e Camille Claudel e Artemisia Gentileschi sono comunque artiste di chiara fama, vite molto tormentate, molto interessanti, ma eticamente, come dire, vicine a noi, avvicinabili, approcciabili. La madre di Hitler incomincia a essere qualcosa di un po' più difficile. È particolare. È molto particolare. Sì, infatti lo teniamo come pezzo finale perché è pieno di sorprese. Ma la cosa interessante anche è, diciamo, il cantante Diego Bragonsi, che è ancora a Parigi, che lui riuscirà a tenere come un fil rouge tra tutte le donne attraverso delle aree famosissime, anche aree femminili. Cioè, perché lui riesce anche a cantare, che è difficilissimo per un cantante irico. Ma andremo ancora più nel particolare. Le musiche, diciamo, state scelte, sono state selezionate, musiche di Purcell, Barber, Schubert e Violetta Parra. Ecco. È una delle mie viscerali preferite, in assoluto. E non vedo l'ora assolutamente di vedere perché è un... Non riesco a immaginare, onestamente, come vengono in tessuto. Eh sì, sì. Noi amiamo questo tipo di spettacoli dove ci sono delle contaminazioni, un po' come il DJ quando fa un arrangiamento in diretta. Eh beh, direi. Allora, restiamo un attimo sugli spettacoli e passiamo, e poi andiamo nei particolari, nei vostri... Allora, dunque, noi due, con noi che è Ticapra, che sia l'autore, insieme, diciamo, è l'autore del libro, perché tutto ciò è partito da un libro. Sì, è partito da un libro che è diventato un corto teatrale che non mi era piaciuto. Ho chiesto aiuto a un grande amico che è Tobia Rossi per alleggerirlo, perché volevo renderlo in maniera un po' diversa. Non volevo parlare della malattia, ma di come cambiano i rapporti quando la malattia investe il quotidiano. E quindi ho avuto bisogno di lui per alleggerire, perché io tendevo ad andare sempre un po' in down. Sì, allora, diciamo, la storia è in tratto di commedia, appunto. Sì. È stato in qualche modo virato su quella... È una commedia, è una commedia che prende tutti i colori dell'anima. Si passa, è empatica, quindi emoziona, diverte... L'argomento, perché non l'abbiamo ancora detto, in realtà c'è questa famiglia di questa donna separata con sua figlia, vivono insieme a un certo punto il tumore. Sì, allora, madre ginecologa separata, figlia le prese con adolescenze, primo amore, esame di maturità. Diciamo che non mi sono fatta mancare niente, quindi momento difficile. La madre tiene nascosta in un primo momento la malattia, la figlia, ed è la figlia che lo scopre. E questo è anche un detonatore che ha fatto in modo che iniziasse il cambio del legame. Perché, ripeto, il tema non è la malattia, ma è proprio quello. Vorrei mettere continuamente... L'accento su quello, tu dici. L'accento su quello. Dopodiché hai trovato dei temi, insomma, abbastanza interessanti, ma soprattutto, cioè, mi viene a dire, che c'è da ridere su questi temi? Invece sei riuscito comunque a farci... E allora io do un nome a questo tumore, lo chiamo Amintore, cioè, diventa uno di famiglia. Già da lì si capisce che... E quindi si capisce che c'è un po' di cose. Poi è chiaro che ci sono, come in tutte le cose, no? Secondo me la vita va vissuta in cui tutte le cose, anche le più tristi, ti danno degli spunti comici o degli spunti positivi. Quindi abbiamo scelta di raccontare in modo che la gente, quando esce da teatro, si tenga un pensiero, che è un pensiero positivo, se lo porti. Quindi credo che sia uno di quei testi, uno di quei pezzi di teatro, che possa essere ricordato da chi? Dallo spettatore. Parlando di comicità, di comina, di risate, insomma, io mi sono fatta tante risate con Luciana, nella mia adolescenza, anche tantissimi spettacoli bellissimi, divertenti, mi sono sempre divertito tantissimo. In questo caso tu invece tratti dei temi, insomma, vi c'è appunto la sofferenza, così. Com'è trattare un tema del genere? E quanto è difficile saltare sempre poi da un registro all'altro? No, no. Non è difficile? No. Serve anzi? Puro male. No, io ho sempre amato questa cosa del cambio di registro, si chiama così, no? Ma immediato, a me piace. Cioè mi piace proprio l'idea di passare dal comico al poetico, al drammatico. Però ecco, la cosa drammatica mi piace vera, quindi con cose che veramente sono successe, per quello che riesco a interpretare la Gentileschi, Frida Kahlo, perché tutte cose vere. Se è finto, non ce la faccio, come mai? Allora... Inventa a pensare, insomma, è già così drammatica la vita, che sono anche inventati dei drammi, diciamo, inventiamoci il divertimento. Esatto, sul comico va benissimo tutto, le invenzioni, tutto. Insomma, è un bel punto di vista. Dunque, Fabio, devi sapere che Lucia Vasini ha qualche illustre maestro e compagno d'arme. Ha pensato che dicessi qualche anno. No, maestro e compagno d'arme, tra questo Franca Rame, Dario Fo e quant'altro. Quindi questa chiave, probabilmente... Sì, divento seria, perché è la professionista che c'è in me. Assolutamente, per cui è chiaro che con una scuola di questo genere... Speria è grata, piena di gratitudine per i miei maestri, che sono loro, i Annacci... Tutta la generazione del derby, del derby. Ma no, anche prima, che Corissone, Streller... Cioè, ci sono tanti che non vengono ricordati, tipo che Corissone era un grande maestro e lavorava con Vittorio De Sica. Cevasini ha una... quindi ha un... come dire... Mi piace ricordare la tradizione, scusate. No, se ci vuole, dal momento che questo è... Io ti dico, la prima volta che ho visto lo Cevasini, avevo 12 anni, ero in teatro tenda a Baggio. Ah, tu avevi 12 anni? Sì. Io ne avevo 32, quindi... quindi quanti anni ci sono in differenza? Non contelo, non due o tre. Cioè, sei così giovane? Sì, non sembra, nonostante tutto, e invece tu li porti benissimo, devo dire... Grazie! Cioè, io ho 63, adesso... E io sembra che ho 63, invece no, pensa... Ma è finzione, eh? Perché mi trucco per... Tu dicevi prima che non sei truccata... Dicevi che tu non sei truccata... Io sì, io sì, io sì, da sotto... Oh, senza barco, sono faccino da ragazzino... No, quindi mi sono tratto da Baggio, insomma, su un programma storico della RAI, e io lì, basta, da lì poi non ho più perso l'inizio... Ma non ti ho mai fatto entrare io? Perché sai che io facevo entrare gruppi di persone? No, 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 no... Eri già giornalista? No, no, avevo 12 anni, avevo... Ah! No, 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 però mi ricordo che avevo messo la giacchetta per vestirmi bene, perché andavo in televisione, la mamma mi ha detto vestiti bene, mi aveva detto... Quel giorno mi avevo messo la giacchetta, sì, sì, a Baggio, lo avevo fatto... Abitavo lì... Senza, c'è amici, eh, di Baggio... Ma che adesso è molto in, io vorrei andare a Baggio... Adesso è in, assolutamente... Eh, sì, è come andare a Brooklyn, a New York... Salutiamo gli amici di... Fatemi stare zitti, datemi una botta in testa... No, una cosa volevo, al di là della lunga e luminosa carriera di Lucia Vasini, poi in realtà lei non si è mai fermata, ha fatto sia la mamma che l'attrice, sempre comunque in teatro, tanto, e ha intrecciato il suo cammino con l'associazione di cui fa parte anche l'autrice di questo testo, che è FAM, che è Silvia Bragonzi, che ha sede a Parigi, è un'associazione che si chiama Bertrand Gruss, Centre de Théâtre, e affronta praticamente tantissimi temi al femminile, e in più fa anche del, diciamo, sia a Parigi ma anche a Milano, tantissime anche azioni sul sociale riguardo al femminile. Ce ne può parlare un po' come avete, insomma, in qualche modo voi fate sia la parte artistica, quindi intessete teatro, spettacoli teatrali e quant'altro, ma andate anche a lavorare sul sociale. Sì, ecco, di questo io non me la sento di parlartene perché più che altro è il presidente Diego Bragonzi, è lui che è a Parigi, io e Silvia sono a Parigi, ma io sono a Milano e andrò a Parigi dopo domani, e cominciamo assieme a fare una serie di progetti, però i progetti so che sono sempre finalizzati, sono sempre per aiutare, quindi aiutare i bambini, borse di studio per le donne, quindi poi la Francia sembra che funzioni molto bene in questo senso, nel senso che tu ti puoi dedicare veramente, spero che succeda anche qua a Milano con Beppe Sala. Assolutamente. Però mi sembra che questo spazio stia dando dei frutti, no, la fabbrica del vapore. Allora, torniamo un po' dopo su Milano off e perché Milano off, però andiamo un attimo con Ketty Capra e andiamo un po' a vedere il suo percorso invece. Ketty Capra è un'attrice, però è anche autrice, scrive soprattutto libri? No, no, io scrivo soprattutto testi teatrali. Però basati su... No, no, non basati, quello che mi viene in mente. Ah, ok, va bene. Diciamo che noi due, si dice che nasce da un libro, ma è un libro che io ho regalato a mia figlia, non è un libro che è stato pubblicato. Io sono autrice anche di antologie, di altre cose, ma questo è un discorso proprio... Io quando scrivo per il teatro si scrive in un modo totalmente diverso. Ho scritto un altro testo sul femminicidio che si chiama Lentamente ci uccidono, dei monologhi che sono sulla Shoah, altre cose, ma mi piace scrivere. Quindi io scrivo, ma mi viene in mente di scrivere una poesia mentre sono fuori a portare il cane? La scrivo. È così. Mi nasce. Cioè, no, no, io la scrivo sugli appunti delle note del telefono. Sono in spiaggia, vedo una cosa, scrivo. Quindi quello è quello che faccio. L'argomentazione comunque è sempre teatro al femminile. Ma, diciamo di sì, teatro al femminile lentamente ci uccidono, femminicidio è... Direi di sì. La compagnia, allora, vedo che è stato un po' il primo approccio a mettere su una situazione con performer. Allora, sì, io vengo da altri percorsi teatrali. Dall'anno scorso ho creato un'associazione culturale dove pensiamo di proporre quasi sempre... Facciamo due percorsi diversi. Uno è quello degli inediti e quindi vediamo noi due. L'altro, invece, è il percorso di rivisitazione in chiave comica di classici. L'abbiamo fatto con delitti e psicofarmaci partendo dai fisici di Durema. Quindi sono due percorsi un po' diversi ma che si convergono nella stessa situazione. Sempre punti di ripartenza semplici, ti piacciono comunque, vedo. Non ho noto un filouge. Diciamo che mi piace fare delle cose che mi mettono alla prova, che mi interessano, che mi coinvolgono. Anche questa prova di noi due è molto difficile dal punto di vista attoriale perché siamo io e mia figlia, che è veramente mia figlia, in scena, con due personaggi che sono diametralmente apposti a quello che siamo noi nella vita. E fatti questo perché verrebbe da pensare appunto che è autobiografico appunto e invece per niente, quindi voi andate a interpretare dei personaggi che non siete voi ma che in realtà siete voi perché comunque siete veramente madre e figlia. Quindi è complicato da quel punto di vista. Sì, è complicato. Abbiamo dovuto creare, diciamo, un muro e ricrearci. Di questo ringrazio Paola Giacometti, la mia regista, che ci ha diretto molto bene. Ma è bello mettersi alla prova, no? Perché se no ti piace vincere e fatti. Prima di passare alle cose serie, il cane è maschio o femmina? Giusto per capire, visto che stiamo parlando tutto il femminile. Il cane è una femmina. Ma chiaramente ci tenevo, scusa, ci tenevo a rimanere in ignoranza. Però in noi due ho messo un gatto maschio che ho chiamato Totonno, che era un gatto che avevo tanti anni fa. Ok, prego. Allora, veniamo un po' a Milano Off. Siete appena arrivate, quindi insomma ancora forse non vi siete un po' accorte di come si muove questo festival. Però, ecco, a Lucia Vasini posso sicuramente chiedere se ha visto lungo la sua lunga carriera cambiamento all'interno della produzione e della distribuzione teatrale. Cosa in cosa è cambiato secondo lei dove è possibile, insomma, in qualche modo mirare con questo tipo di azioni, con i Fringe Festival. Milano Off è partito da Festival Off per poi arrivare, diventare Festival Fringe che è un po' un concetto diverso. Come in off ma un po' così. Esatto. Fringe è un po' questo tipo di operazione. Quale il significato di Fringe? È una Francia. Praticamente è nato dagli esclusi di un festival molto prestigioso. È un po' il fuori salone. Sì, ho capito. Avevo partecipato a Napoli. Esatto. Avevo partecipato a Napoli, mi ricordo, come regista di uno spettacolo di Carolina. Sì, ricordiamo appunto che il Fringe nasce appunto a Edimburgo come frangia di un festival che all'epoca era molto più importante e gli esclusi decidono di ritrovarsi all'epoca Quattro Gatti e adesso fanno 150 rappresentazioni al giorno durante... Sì, sì, dal 1947 io lo trovo meraviglioso. Qui ci sono anche i rappresentanti del Fringe Festival di Avignone che sono qua, proprio dietro di noi. Anzi, io invito un attimo la regia a staccare sul totale per far vedere dietro di noi quello che avviene. Sono questi famosi speed date. Ma magari ci racconti un po' come sono i speed date. Hai fatto lo speed date questa mattina, vero? Sì, sì, l'ho appena concluso. Mi interesserebbe sapere, non si cerca fidanzato, non si cerca fidanzata, ma si cerca, anzi, peggio, compagni, posti dove portare. Si cerca una casa per i propri testi, diciamo. Alto che film domestiche che vi portai in una casa. Cioè, è una cosa, ma molto interessante. Come funziona? Come andate? Funziona che hai cinque minuti per raccontare, per farli innamorare del tuo testo e di quello che hai fatto. Quindi racconti in maniera essenziale che cos'è il tuo testo, perché l'hai fatto. Diciamo che il concetto è come quello dello speed date. Si devono innamorare. Gli devi piacere. Bellissimo. Sì. Per renderci un attimo conto. Allora, prima il meccanismo produttivo e distributivo era profondamente diverso dall'oggi. Sì. Cioè, nel senso che... Stai parlando degli anni settanta. Tu quando sei... Sì. Sì. Era profondamente diverso. Era un po' tutto, era un po' tanto. Negli anni settanta funzionava molto bene. Poi dopo c'è stato un buco nero. E... Non funzionava bene per... Non sono una sociologa, però... No, no, però diciamo, i finanziamenti. Una persona voleva mettere su uno spettacolo. Sì, funzionava. Scriveva. C'era guazzotti. E aveva chi dare il proprio copione pronto a riceverlo, a valutarlo. Era così. E Barbara, sì, funzionava tutto nel fine anni settanta. Per un po' ha funzionato. E poi sì, diciamo, c'era qualcuno che vedeva se era secondo la sua opinione, valido o meno. e c'era una selezione per qualità, in qualche modo. Tu potevi creare un'accompagnia teatrale e avevi finanziamenti in un attimo. Cioè, infatti, noi ne abbiamo fatte due o tre a quei tempi. Avevo vent'anni. Perché, appunto, c'era stata una specie di rivoluzione organizzativa con Guazzotti, con Giorgio Guazzotti. Però poi tutto è cascato. Io non so se è stata la storia degli anni Ottanta e la televisione o semplicemente un establishment che c'era politico. Però di fatto, adesso io sono felicissima di questa nuova ondata perché sento che sta per succedere qualcosa. Allora, i grandi italiani sono ancora quelli di quell'epoca là. Cioè, i grandissimi, attualmente, ne possibili, grandissimi parlo. Cioè, non se ne vedono, o meglio, si possono intravedere in qualche personalità. Un Dario fa i uniannacci non ci sono. Ma non c'è un meccanismo che produce eccellenza. Ma sì, comunque, io non sono convinta di questo. Io vedo invece tante eccellenze in giro. Cioè, i giovani... Io cerco sempre di imparare dai giovani. Non riescono a uscire. È giusto. Non ha la possibilità. Escono con i video, escono con altre forme che non è solo il teatro. Parliamo un po' anche perché lei, al di là di essere chi è, è anche... No, 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 no. No, no, no. Soprattutto... E' madre d'artista, oltre a essere il figlio d'artista. Ah sì, madre di youtuber, non lo so. No, è un youtuber. Ah, questa non la sapevo. Si poteva dire? È una madre del terzo segreto di Satira. Sì, sì, sono... Davide, suo figlio. Sì, sì. E appunto, è interessante appunto questa visione, tu l'hai vista anche proprio bene da vicino. Sì. Ma appunto, forse questa favola che in realtà bastava mettersi su YouTube e uscire, non è proprio così poi, perché comunque appunto non è poi così semplice. No, non è semplice, devi avere dei talenti, ma è chiaro, cioè tutti lo possono fare, poi alla fine devi creare qualcosa che fa la differenza. Si è un po' avvicinata tramite suo figlio anche a questa nuova metodologia in qualche modo per uscire? Sì, 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 no, assolutamente sì. A parte che a me piace proprio la camera da presa, mi piace questo linguaggio. Però il teatro, io lo sto osservando in questo momento, sono in fase di osservazione. Cioè, i classici, ok, però sono in fase di osservazione per tutti i gruppi contemporanei, cioè giovani. Però vedo che usano parecchie, mettono appunto come giustamente diceva Katie prima, c'è il performer, comunque mettono diverse arti. C'è questa contaminazione o no? C'è questa contaminazione, c'è un nuovo fenomeno, come se si fosse saltato una generazione. Cioè, in qualche modo, la generazione televisiva cinematografica è passata, è seccata, è andata via senza produrre figli. Quindi, ha prodotto figli, sta producendo figli questa generazione di web che sta producendo i nuovi spettatori ex abrupto, che non arrivano, non passano dal teatro. Fantastico! Lui amo! Volevo appunto dire di questo, perché noi diciamo appunto, gli artisti se sono cambiati, se non sono cambiati, ma se non fossero appunto gli artisti a essere cambiati, ma il pubblico che è cambiato proprio nella... Sì, è più preparato anche. È più preparato da una parte e nell'altra parte non sapere invece cosa vuol dire andare al teatro a vedere magari un classico, oppure una rivisitazione, un classico che magari può straniare alcuni spettatori, ma invece appunto ogni metto dentro quattro performance di quattro artisti invece rimane incollato, perché mi sbiace dirlo, è abituato magari alla trasmissione televisiva, dove passa il giocogliere, il comico, quello che mangia il fuoco e poi il gruppo di cantanti, di bambini e tutto nel giro di un blocco pubblicitario. Lui sa che in un quarto d'ora ha visto 18.000 cose e quindi per far pratica tenerlo seduto lì anche solo 40 minuti su una seggiolina del teatro, mi viene da dire, no? Lecce, un po' quello che ha potuto vedere dal suo punto di vista riguardo il meccanismo, perché già ha fatto lo speed date, forse un po' è riuscita a entrare dentro questo meccanismo. Secondo lei questa tipologia di festival, Fringe, è interessante? Quali possono essere gli sviluppi? Sicuramente è interessante perché è come se Milano fosse in questi sei giorni un palcoscenico aperto. Gli spettacoli sono tanti, andiamo in scena tutte le ore, dalle 5.30, 7.30, 9.30, quindi magari riusciamo anche a prendere qualcuno che mediamente la sera non esce, tanto per fare un esempio. Ma da parte del festival, degli organizzatori, della direttrice artistica, di Renato, di Francesca, c'è veramente tanta voglia di far teatro, di far rinascere il teatro, di far vedere belle cose. Francesca dice sempre, ne ho viste tante prima di selezionare e ha selezionato secondo me con grande cura e credo che sì, che aiuti il teatro questa cosa. Il problema è che del teatro parlano pochi, la televisione tanti anni fa si parlava degli anni 70, 80, il teatro c'era in televisione, ora non c'è praticamente più. Però adesso abbiamo i nostri social, quindi chiunque stia vedendo questo nostro appello, gli dici tu gli orari degli spettacoli o sei impreparato? Siamo arrivati sulla pagina, noi due che va in scena al Teatro Libro, via Savona 10, oggi non va in scena, quindi state tranquilli. Poi c'è mercoledì 18, 17 e 30, giovedì 19 alle 19 e 30, venerdì alle 21 e 30, sabato alle 17 e 30 e domenica alle 19 e 30. Come dicevi, è molto interessante questa cosa che si cambia orario così che ci cerca di intercettare tutti i pubblici possibili. Poi FAM, avete insegnato qualcosa anche di nuovo, invece, si avete insegnato il francese, sono poliglotta di italiano e basta. Invece che è uno spettacolo ospite al Teatro della Cooperativa, fanno parte della rete di questo off, lo trovate invece in scena mercoledì 18 alle 21 e 30. Ovviamente, ma anche gli altri non si può perdere niente, dovete fare l'abbonamento, potete andare sul sito, potete fare anche l'abbonamento, lo dico così che Renate Lombardo è contento, lo dico, andate sul sito. Quindi non avete modo di, dovete andare quella sera lì, vado domani, no, vai quella sera lì, domani voglio qualcosa altro. Anch'io devo andare quella sera. Magari arriva un po' prima tu se riesci, giusto? No, è sempre un po' stage il problema, però c'è il tranche che passa davanti, quindi è comodo. Benissimo, allora ripetiamo, i spettacoli sono FAM, della compagnia Bertrand Grus, Centro del Teatro, autore Silvia Bragonsi, regia Lucia Vasini e Diego Bragonsi-Bignami, interpreti Lucia Vasini e Diego Bragonsi-Bignami e poi ci sono, diciamo, i costumi anche sono firmati da Valeria Guarischi e la produzione è sempre dell'associazione Bertrand Grus Production. Poi invece abbiamo Noi, che è autore Ketty Capra e Tobia Rossi, la regia è di Paolo Giacomenti, interpreti Ketty Capra e sua figlia Viola Vanzana nella vita e sulla scena e poi abbiamo le musiche di Tiro Mancino e i costumi anche firmati da Ketty Capra. E la produzione è appunto il suo gruppo, l'associazione Performer, scritto per quattro mer, che è molto carino, va bene. Allora, mi sa che dobbiamo chiudere che tra un po' ci stanno, ci coprono. Fra poco ci sarà il discorso di inaugurazione proprio del Milano Off Fringe Festival, impareremo credo l'ultimo giorno a dire nell'ordine giusto, Milano Off Fringe Festival, chi viene prima e chi viene dopo. Credo che sia Fringe Festival Milano Off, se non ricordo male. E poi c'è il Phil che ne parliamo magari un altro giorno del Phil, perché io Renato lo voglio portare qui, voglio chiedere proprio del Phil a Renato Lombardo, direttore di tutta la baracca, come si dice in questi casi, va bene. Va bene, io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, grazie mille di aver restato con noi. Grazie a voi. Ah, e prima o poi, Scoop, ci vedrete insieme. Esatto. Attente a queste due. No spoiler. Bene, 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 no spoiler, però insomma una bella anticipazione, grazie mille anche per questa esclusiva di Milano News, me la vendo così. Barbara, grazie mille anche a te come sempre, grazie davvero, buona giornata, noi ci rivediamo. Grazie a voi. Questa sera alle ore 18, guardo la mia regia perché non mi fanno segni quindi è giusto, alle 18 sempre qui in diretta dal Village Off, Fabrica del Vapore, Milano Fringe Off Festival, forse l'ho detto giusto. A presto, arrivederci. Grazie a voi.